Oh, benvenuti a tutti, buonasera. Oggi è il 31 dicembre e anche quest'anno è passato. Stasera molti di voi, come me, avranno una cena in cui ognuno porta qualcosa. Ecco, quest'anno, invece di portare il solito cuotichino con le lenticchie, che poi non solo mangia nessuno, restano lì a freddarsi, fanno schifo queste lenticchie, lo volete capire? Fate una scelta diversa e ascoltate il consiglio di noi. Portate una copia di Io Sono Tre, dei Giganti della Montagna. Buon anno nuovo e tanta fortuna. Grazie a tutti.